In questa lezione parliamo del fascismo, o meglio, riprendiamo il discorso in merito all'ascesa del fascismo riprendendo dalla marcia su Roma, dal primo discorso tenuto da Mussolini a seguire. Allora, la marcia su Roma, riassumendo la lezione precedente, avviene, ci ricorderemo, tra il 27 e il 28 ottobre del 1922, su forte richiesta dell'ala intransigente, rivoluzionaria, radicale del partito fascista. Non partecipò infatti lo stesso Mussolini, il quale rimase a Milano in attesa di eventi. L'evento successo perché Vittorio Emanuele III, il re, rifiutandosi di firmare lo stato di emergenza che gli fu proposto dal primo ministro Fakta, primo ministro del tempo, di fatto concede, riconosce la marcia, riconosce il partito fascista e invita lo stesso Mussolini a recarsi a Roma, cosa che farà in treno qualche giorno dopo, per assumere l'incarico di governo. Una volta creata la squadra di governo, Mussolini abbiamo già visto, si presenta in Parlamento dove enuncia il famoso discorso del bivacco e nei giorni immediatamente successivi si fa carico di due provvedimenti che qui etichettiamo sovversivi. Da una parte il riconoscimento del Gran Consiglio del Fascismo con controllo sulla pubblica amministrazione, quindi va a creare una pericolosa simbiosi tra partito e Stato, l'organo di un partito che diventa organo pubblico statale e anche se non ancora con grandi ruoli, con grandi poteri, e dall'altra il riconoscimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di fatto delle squadre fasciste, che qui fino a quel momento il partito fascista e il movimento dei fasci combattenti prima aveva usato ovviamente in modo del tutto illegale, adesso viene di fatto legalizzato. L'anno successivo, nel 1923, il partito fascista si fa portatore di una legge elettorale nuova, una legge maggioritaria, la legge acerbo. Cosa significa legge maggioritaria? Significa che attraverso il calcolo dei seggi sulla base dei voti ci si assicura che il partito che ottiene il maggior numero di voti possa governare in modo stabile, ottenendo la maggioranza assoluta in Parlamento. Quali sono questi calcoli? dipende dalla legge. La legge acerbo in particolare attribuisce a qualunque lista vincitrice delle elezioni che ottenga almeno il 25% dei voti ben il 66% dei seggi, quindi una legge fortemente maggioritaria. Alle elezioni successive che avverranno nel 24, tra l'altro, il partito fascista ottiene addirittura il 65% dei voti, lo vediamo da questa sintesi a destra, le prime due liste, adesso bisogna calcolare la somma delle prime due liste, si ottiene il 65% dei voti per un totale di 374 seggi. Di fatto il controllo totale del Parlamento, infatti vediamo che il secondo partito che vince le elezioni, che arriva seconda all'elezione il partito popolare che ha soltanto 39 seggi, quindi insomma uno scarto insanabile. Il partito fascista ha il controllo assoluto del Parlamento. Da parte delle opposizioni comunque non c'è una totale resa nei confronti del nuovo partito al governo e che ha il controllo del Parlamento perché nei giorni successivi vi sia la denuncia dei brogli e delle violenze da parte del socialista Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti è il socialista ma si è presentato con il partito socialista unitario, quello che ha ottenuto, comunque che è arrivato come terzo partito con maggior numero di voti. Matteotti quindi denuncia sia i brogli ma soprattutto denuncia le violenze, le violenze fatte e perpetrate appunto dalle squadre godace fasciste, adesso addirittura riconosciute come milizia volontaria. Quindi elezioni che ha detto di Matteotti non sono valide e per queste sue esternazioni, pochi mesi dopo, un paio di mesi dopo, il 10 giugno del 24, verrà addirittura assassinato. Assassinato dalle squadre fasciste, non si sa su un mandato di chi, non necessariamente a quanto dicono i studi recenti, non necessariamente mandati dallo stesso Mussolini, ma di fatto zittito appunto da esponenti più o meno radicali del partito. Il corpo di Matteotti verrà ritrovato un paio di mesi dopo sulle spiagge vicino Roma. Lo stato dell'opinione pubblica dopo questo atto fu particolarmente scossa, forse è stato il momento più basso a livelli di che è un senso che il partito fascista abbia avuto nella sua storia, a parte nel 43, quando ovviamente di fatto perderà la seconda guerra mondiale. Tanto che l'opposizione, tutta l'opposizione unita, quindi tutti i partiti non fascisti del Parlamento, decidono di lasciare i lavori del Parlamento, abbandonare i lavori del Parlamento effettuando quella che storicamente viene chiamata la secessione dell'Aventino, in ricordo dei tribuni della plebe del tempo che fu e sperando in un'azione, in un intervento risolutore del re per ripristinare la legalità, cosa che ovviamente non avviene, quindi qui si ribadisce il concetto del 22, insomma post marcia su Roma, evidentemente il re ha a cuore il mantenimento del potere da parte del partito fascista e addirittura nel gennaio dell'anno successivo, nel gennaio del 25, Mussolini si assunse tutta la responsabilità con un celebre discorso in Parlamento. Con questo discorso che vi invito a leggere, qui avete sia un link su Wikipedia che la registrazione su Youtube, di fatto Mussolini si assume tutta la responsabilità dell'omicidio Matteotti, responsabilità politica, responsabilità storica, soprattutto responsabilità storica, è molto importante. Il partito fascista in quel momento, dice Mussolini, rappresenta la forza, la passione, la volontà del popolo italiano e la colpa di fatto è del povero Matteotti che ha usato mettersi contro questa forza dirompente che il partito fascista si limita di fatto soltanto ad assumere, a guidare, a rappresentare. Il discorso del gennaio del 25 ha come effetto quello di ricompattare in modo estremamente forte le file del fascismo e di riportare quindi nei confronti del fascismo stesso tutto quel consenso, soprattutto da parte della monarchia di cui ha bisogno per portare avanti il suo programma di governo. Negli anni infatti immediatamente successivi, 25-26, Mussolini può prendersi la libertà di emanare tutta una serie di disposizioni che tutte insieme prendono il nome di leggi fascistissime. Io qui in realtà ne ho messa qualcuno di più di quelle che storicamente vengono chiamate come fascistissime, ma sono di fatto tutte le disposizioni di questi due anni che fanno capire, in realtà sono più di due anni, comunque in questi anni che fanno capire quello che è il disegno, la strada spianata, non il disegno, il disegno è chiaro quale sia, ma la strada spianata che Mussolini ha dopo l'omicidio Matteotti nel costruire il suo regime totalitario o quasi totalitario, perché come diremo il partito fascista, a differenza di quello nazista in Germania, un vero e proprio totalitarismo non riuscirà mai a costruirlo. Accenniamo subito il perché, perché in Italia sussistono altre due forze che il partito fascista non riuscirà mai del tutto a oscurare, anzi forse non ne ha neppure la volontà, da una parte la monarchia e dall'altra parte la chiesa, forze con le quali il re dovrà sempre rendere conto. Comunque, tornando alle leggi fascistissime, intanto il presidente del consiglio diventa capo del governo, non è soltanto una modifica dell'itimologia del nome, insomma del nome con cui viene chiamato il primo ministro, di fatto il primo ministro diventa bene rendere conto del suo operato soltanto al re e non più al parlamento. In Parlamento si ha un unico partito, il partito nazionale fascista, le cui liste elettorali vengono redatte direttamente dal gran consiglio del fascismo e qui si ha la vera e propria sovrapposizione tra esecutivo e legislativo, quindi il partito fascista diventa lo Stato e i comuni cessano di avere un sindaco eletto dai propri cittadini ma vengono rappresentati dal potestà che sono di nomina fascista, di nomina governativa, ovviamente censura per la stampa e non soltanto, esilio per gli antifascisti, viene istituita una polizia segreta, l'Ovra e soprattutto per tutti coloro che ricoprono incarichi statali pubblici l'obbligo di iscrizione al partito fascista, quindi con una sorta di giuramento che colui che lavora per lo Stato, per lo Stato, attenzione, non per il partito, si deve però prestare giuramento al partito, quindi il fatto Stato e il partito fascista diventano tutt'uno. E' importante, molto importante, viene reintrodotta la pena di morte, pena di morte che ricorderemo era stata abolita con Zeno Ardelli, viene reintrodotta anche se può applicarsi solo in casi estremi, ad esempio in caso di attentato alla vita del Dugno. Comunque, anche se nel caso del fascismo in Italia non si può parlare di un vero e proprio totalitarismo compiuto, perché non vi è soltanto il fascismo come forza operante nel Paese, come accennato prima ci sono anche la Chiesa e la Monarchia, comunque si realizza quello che già Hegel e poi l'hegeliano italiano gentile avevano chiamato lo Stato etico, ovvero una perfetta, o qua ho tentato, perfetta identificazione tra lo Stato e il partito fascista, ovvero tra lo Stato e i valori, la morale di quello che è portato da un partito, che come dice il nome è una parte della popolazione e non certo la sua totalità, quindi gli interessi di alcuni diventano gli interessi, sono identificati con gli interessi di tutti e tutti e i quali tutti devono adeguarsi. Lo Stato quindi perde, come lo Stato cessa di essere liberale, perché perde la capacità di mediazione tra interessi diversi, ci ricorderemo l'opinione che infatti Hegel ebbe del partito liberale, e scusate dello Stato liberale, uno Stato quindi che non è in grado di risolvere il conflitto, gli interessi di classe all'interno della società economica. Lo Stato deve essere uno, deve essere la guida di tutti e soprattutto deve rappresentare i valori e l'interesse della totalità. Quindi nello Stato etico l'individuo cessa di essere tale, ma si adegua, si conforma ai valori scelti per lui, per lo Stato, cioè i valori di tutti. Per raggiungere questo obiettivo, tante sono le iniziative del partito fascista, tra cui queste che vale la pena di citare, l'abolizione dei sindacati, quindi l'abolizione di quelle organizzazioni che non solo sono di parte, ma sono anche tra le protagoniste di quella che è la lotta di classe, che è assolutamente da evitare in uno Stato etico, e l'introduzione al suo posto delle corporazioni. Le corporazioni ovvero associazioni, assemblee, occasioni di concertazione tra i laboratori e le classi patronali, quindi tra lavoratori e padroni. Le corporazioni sono ne più ne meno le arti che furono nella Firenze del Rinascimento, quindi associazioni in cui all'interno concorrono e rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro e soprattutto rappresentanti dello Stato. Le corporazioni sono organismi ufficiali, riconosciuti dallo Stato, che hanno tra l'altro come obiettivo principale, quello di emanare il cosiddetto contratto nazionale, cioè ogni categoria di lavoratori ha un contratto stabilito per legge, il contratto collettivo nazionale del lavoro, usando un termine un po' moderno, quel che ho riportato, ma si chiamava a quel tempo contratto nazionale. Le corporazioni erano talmente importanti che nel 1939, Mussolini addirittura cambiò il nome della Camera dei Deputati, chiamando la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Tanto la Camera dei Deputati, come abbiamo accennato prima, con le leggi fascistissime, vedevano come rappresentanti al suo interno coloro che erano scelti direttamente dal Gran Consiglio del Fascismo, quindi non c'era il problema delle elezioni, quindi di fatto le elezioni vengono superate. E' importante ricordare come tutto questo, tutto sommato, rappresenta uno dei fiori all'occhiello del fascismo, anche da un punto di vista internazionale. Il fascismo viene identificato da molti suoi stimatori, anche stranieri, tra cui Roosevelt, negli Stati Uniti, Churchill in Inghilterra e altri nell'est Europa e in Sud America, parleranno appunto di terza via del fascismo, cioè un modello economico del fascismo che è a metà, anzi non è a metà, è altro rispetto a quelli che fino a quel tempo erano considerati gli unici due modelli economici possibili, il comunismo da una parte e il capitalismo, liberismo dall'altra. Il fascismo è una terza via perché lo Stato si fa garante dell'economia, come il comunismo, ma allo stesso tempo lasciando libertà di impresa, quindi la proprietà privata. Lo Stato diventa arbitro, è colui che guida l'economia, si fa arbitro, la incentiva, si fa protagonista, ma senza appiattirla, senza assumersene direttamente la proprietà, a differenza appunto del comunismo o socialismo reale. Importantissimo per il fascismo la cosiddetta creazione del consenso. Il fascismo è un sentimento, è un sentimento che deve essere coltivato in tutta la popolazione, in tutte le età e in tutte le occasioni, dal tempo libero alla scuola, al lavoro, a tutto ciò che ha a che fare con la vita in società. L'individuo, come detto prima, deve uniformarsi, anzi conformarsi all'ideale, al modello fascista. Quindi il fascismo crea valori e istilla valori nella sua popolazione in tutti i modi che gli è possibile. Qui vediamo, in questa immagine vediamo ad esempio come già nei tempi della scuola, fin da bambini, si veniva educati a questo modello fascista. È importante ricordare questo perché ci dobbiamo appunto ricordare che il fascismo in Italia ha durato circa 20 anni, quindi ha avuto tutto il tempo di creare un'intera generazione di fascisti. Fascisti nel senso di una popolazione che si è riconosciuta in quei valori, che è cresciuta con quei valori. Per questo molti storici concordano che anche con la fine del fascismo, come totalitarismo, come dittatura, come partito, il fascismo come sentimento o comunque come qualcosa che ha riconosciuto qualcosa di buono in quei valori è stato molto difficile a stirpare. Anzi, diciamo che in questo paese, in Italia, i conti con il fascismo del tutto non si sono mai fatti. Questa è una grossa differenza con il nazismo tedesco, il quale invece non ha avuto il tempo di sedimentare i suoi valori per un'intera generazione. Il nazismo sale al potere di fatto nel 34, nel 39 esporta la Germania in guerra e pochi anni dopo di fatto è già finito. Quindi una meteora molto più veloce, anche se sicuramente ha lasciato la sua orma in modo ancora più radicale. Comunque, tornando alla creazione del consenso, il sentimento fascista dunque viene istillato in ogni occasione, viene creato per l'occasione addirittura un ministero che ha come unico scopo quello di diffondere la cultura popolare, ovvero quella fascista, il mincolpop, e usava tutti i mass media che il fascismo poteva utilizzare. Ricordiamo che Mussolini è stato un grande lettore di quella che era la psicologia delle folle di Moss, con le quali si rende conto quanto sia di fatto facile governare le folle, le quali sono irrazionali, le quali usano la pancia per ragionare, sono facilmente influenzabili quando sono raccolte intorno a valori, diciamo, popolari. Comunque, è interessante ricordare anche questo, c'è il richiamo alla Romanità, c'è l'uso che Mussolini fa della cosiddetta storia monumentale, così come poi ce la racconterà anche Nietzsche in una delle sue inattuali, di cui parleremo in altra lezione. Il richiamo alla Romanità è un richiamo fondamentale, cioè richiamare nella storia qualcosa per cui gli italiani possano sentirsi orgogliosi. È un po' come oggi richiamarsi Giulio Cesare o Leonardo da Vinci per ricordarci quanto gli italiani sono belli e quanto la storia dimostri la loro superiorità, se non razziale, perlomeno morale. È facile capire quanto sia influenzabile un ragionamento, influenzante un ragionamento del genere. È un po' come quando urlando contro i cugini francesi chiediamo che ci venga restituita la Gioconda, come se la Gioconda fosse italiana, come se Leonardo da Vinci fosse italiana e soprattutto come se la Gioconda non fosse stata regalata dallo stesso Leonardo all'allora re di Francia, Francesco I. La ragione di fronte a certi proclami di solito viene meno. Anche il tempo libero è gestito dal fascismo, qui ci ricordo ancora oggi vediamo in giro sparsi per le città i cosiddetti dopo lavoro. Venendo alla politica economica ci ricorderemo quello che dicemmo nella lezione precedente, ovvero che il partito fascista fin dalle sue origini è sempre stato composto da tre anime molto diverse tra loro. In particolare due di queste tre anime sono l'anima agraria e l'anima industriale. L'anima agraria è l'anima delle origini, appunto. Il partito fascista, il movimento, le fasci combattenti, anzi ancora prima, è particolarmente forte soprattutto nelle campagne della pianura padana, proprio in ottica antisocialista. A onore della propria anima agraria la politica economica del fascismo è sempre stata fortemente, inizialmente, almeno fino al 25, è sempre stata fortemente liberista, così come l'economia agraria, agricola, ha bisogno. Ci ricorderemo a questo proposito, anche se questo è esula dal discorso del iberismo in particolare, la battaglia del grano del 25. Battaglia del grano che va nell'ordine, nell'ottica di una politica economica che perseguirà anche gli anni successivi, cioè quello di rendere l'economia italiana, se non indipendente, per lo meno meno dipendente dall'importazione dei beni, dei generi di consumo degli altri paesi. L'Italia consumava molto più grano di quanto era in grado di produrne, quindi era costretto a importarne e questo ovviamente portava la bilancia entrate e uscite in negativo. Dunque dal 25 la battaglia del grano, quella che prevede, è la bonifica di paludi e la sostituzione di produzioni agricole, di chiamiamole più pregiate, sostituendole con quelle invece di consumo di massa, appunto, il grano, il pane e la pasta. Politica che ha il suo successo, perché anche se questo ovviamente porta a eliminare altri tipi di colture che erano buone per l'esportazione, l'Italia raggiunge una certa autonomia, autosufficienza, ma almeno per quanto riguarda questo genere di consumo. Dall'anno successivo invece viene fuori l'anima industriale. L'Italia è ancora un paese fortemente agricolo, anche se ha già vissuto la sua rivoluzione industriale, l'abbiamo raccontato a suo tempo con i governi De Pretis e Crispi, però abbiamo notato con la grande guerra quanto la sua industria fosse ancora fortemente debole e con grosse difficoltà nel riuscire a convertire la sua produzione anche a causa dell'enorme debito pubblico che il paese ha e che quindi non può aiutare. In sostegno dell'anima industriale, dal 1926 Mussolini adotta una serie di disposizioni che poi connoteranno il fascismo a vera e proprio, cioè riporteranno il fascismo a riacquistare quella che era la sua anima sociale iniziale. Nel 1926 stabilisce quello che è il programma detto quota 90, ovvero riportare la lira a quota 90 con la sterlina. La lira che era fortemente depreciata nei confronti della sterlina inglese in generale e della voluta straniere, il programma di Mussolini che è un programma più patriottico in questo caso che è strettamente economico, è quello di riportare la moneta a avere una sua forza che però porta anche a una forte politica deflazionistica, quindi è vero che diminuiscono i prezzi delle merci ma diminuiranno con l'aumento della lira anche salari e di conseguenze si avrà meno export. export, veramente moneta più forte, più difficoltà nel vendere nei mercati internazionali i propri prodotti. Un forte impulso, una forte spinta verso una politica di tipo protezionista arriva in Italia con la crisi del 29, la caduta, il crollo della borsa di Wall Street. Vi ho già raccontato questo evento che effetti ha avuto in Germania, gli effetti si sono avuti un po' in tutto il mondo, in Italia compresa. Con la crisi del 29 la politica di Mussolini, la politica economica di Mussolini spinge verso quella che si chiamerà l'oparchia, cioè l'annullamento delle importazioni e quindi il tentare di rendere l'Italia un paese completamente autonomo da un punto di vista della produzione. Molto difficile, visto che sappiamo che l'Italia è priva di materie prime, ma il modello, il progetto è questo. Nel 1933 l'istituzione dell'IRI, l'istituto di ricostruzione industriale, un istituto che è sopravvissuto fino a pochi anni fa, che ebbe un ruolo di primo piano per la ricostruzione e il pulso di tipo industriale in Italia. Di cosa si occupava l'IRI? In un momento di grave crisi economica, dopo il crollo della borsa Wall Street, di risanare le industrie private, iniettando denaro pubblico, per poi eventualmente rimetterle sul mercato. Dico eventualmente perché di fatto, soprattutto per molti settori strategici, come la telefonia, come l'energetica, eccetera, di fatto queste filiere industriali restavano dei monopoli, dei grandi monopoli di Stato. Insomma, dal liberismo dell'anima agraria iniziale, si arriva al più feroce dei protezionismi. Il capolavoro, da un punto di vista del consenso, Mussolini lo raggiunge sicuramente nel 1929 con i patti lateranensi. Mussolini sa benissimo che un vero e proprio totalitarismo non si può raggiungere se non catturando o evocando verso di sé il consenso della Chiesa, in particolare il mondo cattolico. Ricordiamoci che dai tempi del non-expedit di Pio IX, che l'Italia di fatto non è ancora riconosciuta come stato legittimo da parte della Chiesa di Roma, confinata nel Vaticano, dichiarantesi già a suo tempo prigioniera politica nel Vaticano. Si vuole, e nel frattempo abbiamo visto comunque che vi sono stati tentativi di avvicinamento, tra cui il patto Gentiloni, ma un vero e proprio riconoscimento ancora deve arrivare, e appunto arriverà con Pio XI, il quale nel 1929 appunto riconosce lo Stato italiano, è un riconoscimento bilaterale, ma soprattutto arriverà ad accordarsi con il partito fascista per essere riconosciuto come religione di Stato. Lì il favore che la Chiesa ottiene in cambio dal partito fascista è notevole, fa capire quanto la Chiesa sia un potere davvero forte in Italia, contro il quale neppure il fascismo può troppo. Alla Chiesa viene riconosciuta l'azione cattolica come unica associazione non fascista. Abbiamo detto prima che il fascismo arriva ovunque, anche nel dopolavoro, nel tempo libero, nell'organizzazione dei gruppi studenteschi, eccetera. Quindi ogni associazione che non si richiami esplicitamente o non sia organizzata in modo esplicito dal partito fascista è semplicemente fuori legge. Unica eccezione è l'azione cattolica, quindi un'associazione non fascista ma riconosciuta dal partito fascista. Tutto questo che fine ha fatto il partito popolare, quello di Don Sturzo fondato nel 19 di cui abbiamo parlato. Già a suo tempo vi dissi che questo partito non era visto troppo di buon occhio dalla Chiesa, dalle alte gerarchie della Chiesa, non ha mai ricevuto un grosso sostegno perché è troppo liberale e troppo democratico. La democrazia è un discorso lungo, però all'interno di una gerarchia ecclesiastica la democrazia non ha molta ragione di esistere. E quindi il partito popolare è stato sciolto nel 1926, tra l'altro con grande soddisfazione da parte anche della Chiesa stessa. Importantissime le parole che P.I.I. spese direttamente per Mussolini, addirittura arrivandolo a chiamare uomo della provvidenza. Terminiamo la nostra sintesi storica sul fascismo parlando della politica estera. Allora, ricorderemo che l'Italia fa parte della società delle nazioni, all'interno della quale il partito fascista, in particolare Mussolini, gode tra l'altro di un certo rispetto, un certo prestigio. L'abbiamo accennato prima, anche la politica economica di Mussolini, la cosiddetta terza via, ha numerosi estimatori nel mondo. Ma in particolare Mussolini gode di un certo prestigio perché è colui che ha portato ordine in uno di quei paesi che dopo la Grande Guerra era sicuramente a più forte rischio di rivoluzione socialista o comunista. Quindi ha portato ordine in un paese che da un momento all'altro sembrava potesse scoppiare, in una rivoluzione che ovviamente avrebbe destabilizzato tutto il mondo occidentale. Tutto questo almeno fino al 1935, anni appunto in cui godendo di questo prestigio Mussolini si permette alcuni trattati che vale la pena di citare, in particolare quello del 24, il trattato di Roma, con il quale Mussolini riottiene sotto la propria giurisdizione, sotto la sovranità italiana, la città di fiume, quella città di fiume che, ricorderemo, era stata occupata da D'Annunzio, poi liberata da Gioliti con l'esercito e poi di fatto dichiarata città libera. Mussolini la riporta sotto la giurisdizione italiana. Tutto questo dicevo fino al 1935. Perché nel 1935 cosa succede? Succede che Mussolini ha la fantastica idea di ritentare l'azione, l'iniziativa, la campagna militare contro l'Etiopia. L'Etiopia, ricorderemo, le due guerre condotte da De Pretis e Crispi, eccetera, eccetera. Alla fine entrambe le guerre portarono a nulla di fatto, tanto che Rudini nel 1996 dovette, insomma, stiglare un trattato di pace con l'Etiopia che al massimo concesse un protettorato sull'Eritrea. Mussolini nel 1935 tenta di nuova campagna militare, arrivando a usare addirittura i gas tossici e quindi di fatto occupando la società. e l'Etiopia. È importante ricordare le parole di Pio XI che qui vengono riportate, Pio XI è il Papa, che di fronte ai crimini di guerra di cui Mussolini si macchiò e che scioccarono un po' tutto il mondo e incrinarono l'immagine che Mussolini aveva anche all'interno della società delle nazioni, ebbe a commentare dicendo siano soddisfatti i bisogni del mio popolo, di fatto affiancandosi alle decisioni di Mussolini e sostenendole, anche di fronte a dei crimini così inenarrabili. Quindi, occupando l'Etiopia, sommandola alla Somalia e all'Eritrea, nasce la grande colonia dell'Africa orientale italiana, che insieme alla Libia fanno parte del grande impero italiano, al quale poi si aggiungerà nel 1939 l'Albania. Tutto questo all'alba della Seconda Guerra Mondiale. Nella società delle nazioni il Negus, quindi il re Etiope, arrivò a denunciare l'iniziativa di Mussolini e quindi non riconoscere l'occupazione dell'Etiopia, che tra l'altro era uno stato anch'esso facente parte della società delle nazioni. E' per questo che si inclinò il rapporto tra Mussolini, Francia e Inghilterra. Chi riconobbe la conquista sarà la Germania di Hitler. Anche la Germania da pochi anni fa parte della società delle nazioni, ricordiamocelo, anche se da qui a breve uscirà. La Germania di Hitler, che è l'unico stato che riconosce l'occupazione dell'Etiopia e che di fatto porterà a una sorta di alleanza, ancora non scritta, ma da qui a poco verrà anche siglata, almeno due trattati, porterà un'alleanza e una lunga amicizia di due dittatori che poi... Anzi no, chiedo scusa, siamo nel 35 o 36 con la fine della guerra, la Germania non fa più parte della società delle nazioni, la Germania è uscita nel 33 dopo l'incendio del Reichstag, dopo che Hitler ha assunto pieni poteri in Germania. Comunque da qui a poco ne uscirà anche l'Italia e quindi a maggior ragione i due dittatori faranno fronte comune nel sostenersi a vicenda e arrivando poi a siglare quel patto di acciaio che porterà dritti alla guerra, ma di questo parleremo nella prossima lezione.